Poi, ma non mi vuoi, non mi vuoi? Ecco, ma non mi vuoi? Ecco, ma non mi vuoi? E la parola, la parola è quella del luce. Ma non mi vuoi? Tu ti ti sei? A me vuoi, a me vuoi? Non mi vuoi, a me vuoi. Sì, 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 sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.